Assistiamo i neonati da 29 settimane in su di età gestazionale con un peso da 1000 grammi in su, un chilo in su. Un medico neonatologo presente tutti i giorni ma anche di notte, quindi 7 giorni su 7, H24, un servizio importante che verrà offerto alla cittadinanza del quale potranno beneficiare non solo i piccoli pazienti della terapia intensiva neonatale ma anche i pazienti del pronto soccorso pediatrico dell'ospedale San Donato di Arezzo. Ne arrivano circa 12.000 l'anno con delle punte massime come potete ben capire nei periodi, nei weekend, soprattutto nel periodo che va da ora fino a maggio-giugno quando aumenta la morbidità. Noi abbiamo adesso l'occasione di avere questi due medici acquisiti, essenzialmente acquisiti per mettere in sicurezza la terapia intensiva neonatale con la doppia guardia notturna. Ma l'arrivo di questi medici, quindi di conseguenza comportando il raddoppio della guardia non solo di urna, quello che già accade, ma anche notturna, è molto utile per la cittadinanza perché in questo modo il medico neonatologo, non fa solo il neonatologo, ma aiuta anche il medico pediatra di pronto soccorso. Abbiamo un punto nascita in cui nascono oltre 1.500 bambini all'anno, siamo in zona 1.600, la patologia neonatale è circa il 10%, l'1% dei bambini può avere bisogno di cure più intensive, per cui voi capite quanto è importante avere sempre questa figura. Che cos'è il back transport? Abbiamo come area toscana sud-est, compresa l'azienda ospedale Universitaria Senese, organizzato, in realtà viene fatto anche in tanti altri posti, questo servizio di ritorno a casa per il completamento delle cure. Quindi quei bambini che sono nati con un livello di prematurità o con una patologia che necessita di una cura in un livello più avanzato di intensità di cure, come il terzo livello che è quello dell'azienda ospedale Universitaria Senese, una volta superata la fase di quell'assistenza possono ritornare vicino a casa. Noi le andiamo a prendere con l'ambulanza dedicata, con il medico dedicato e l'equip appunto dedicata a questo, li riportiamo vicino a casa per finire le cure in modo che la famiglia possa averli vicino e ridurre il disagio di trasferimento lontano da casa. La nostra più grande gioia è veramente vedere le mamme e i papà che vanno a casa con il loro bambino e che ci ringraziano, ma non per le cure, ma perché hanno trovato un ambiente accogliente. Questo secondo me è la più grande soddisfazione.